Il Consiglio Comunale di Pozzallo, nella seduta di ieri, ha approvato la proposta di deliberazione di adozione della variante alla Piano Regolatore Generale. La suddetta approvazione è avvenuta solo in seconda convocazione e con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, atteso che sia in prima che in seconda convocazione il civico consenso è stato disertato dai gruppi di minoranza. Giunge finalmente a conclusione il lunghissimo iter di adozione della variante alla PRG, atteso dalla città da quasi un ventennio. La seduta del Consiglio Comunale di Pozzallo, convocata invece giovedì, non si è potuta svolgere per mancanza del numero legale, in quanto tutti i consiglieri di minoranza, eccetto il consigliere sul senti, risultavano assenti in prima convocazione, mentre nella seconda risultavano tutti assenti. Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri di maggioranza. Riteniamo doveroso informare la cittadinanza sull'importanza dell'adozione di tale piano regolatore che la comunità pozzallese aspetta da decenni, in quanto volano per lo sviluppo urbanistico, economico e sociale. Piano regolatore che, precisiamo, non è frutto di orientamento esclusivo di questa amministrazione, ma che riteniamo sia un patrimonio della città, qualunque sia il colore politico di appartenenza, scrive la maggioranza, che stigmatizza la decisione di assentarsi dell'opposizione. Grazie a tutti.